Prima a parlare del moto mondiale lo facciamo per il primo dei due round di Misano, il circuito romagnolo ospiterà per due settimane consecutive il moto mondiale, questo è il round canonico della Repubblica di San Maria della Riviera di Rimini in un Gran Premio che ha coronato la vittoria di Marc Marquez, seconda consecutiva dopo la scorsa al Gran Premio di Aragon, una vittoria che certifica effettivamente la gara capolavoro del numero 93 e che riapre totalmente il mondiale perché nelle condizioni complicate che ha visto protagonista la gara di Misano, Martin butta via un sacco di punti sbagliando letteralmente strategia, Bagnaia fa secondo di conserva e di fatto il mondiale è totalmente riaperto per una gara che appunto ha visto condizioni complicate, si partiva con un cielo va detto abbastanza nuvoloso quindi con condizioni aperte a qualunque tipo di soluzione che poteva essere una gara totalmente asciutta come una gara umida o qualche previsione di pioggia, la pioggia in effetti arriva e lo fa nella prima parte della competizione, tutti i piloti di testa di fatto proseguono senza fermarsi, Martin si ferma e questa sarà una scelta che verrà pagata ma nel senso sbagliato del termine, in tutto questo con Bagnaia in testa e le altre Ducati che se la giocavano per le prime posizioni emerge la Ducati del team Grisini GP23, Di Mark Marquez che partiva in nona posizione, ha girato nono alla termina del primo giro e alla fine con condizioni complicate è riuscito a buttare il cuore oltre l'ostacolo e ad aggiudicarsi quella che poi sarà una grandissima vittoria, una rimonta capolavoro da mezzo gruppo fino alla testa, certifica ancora una volta il talento di questo pilota che non è mai stato in discussione, non è mai stato peraltro nelle mie simpatie più recondite, Però quando un pilota, simpatico o antipatico che sia, fa una gara capolavoro è giusto riconoscerla e quella di Marquez è una gara capolavoro perché sortando le condizioni avverse dove gli altri rallentavano lui è riuscito a rimontare, a recucire con il gruppo e alla fine avrà ragione di tutti gli altri piloti che poi non si sono fermati, Alla fine Marquez riuscirà a superare tutti i piloti in pista e non avrà neanche modo di farsi replicare contro gli attacchi, a un certo punto Marquez sparerà il giro del record della pista in gara, quindi qualcosa di clamoroso, segno che appunto il talento di Marquez non è mai stato messo in discussione, certo non è più quello che dominava i mondiali con la Honda quando il talento e la condizione fisica soprattutto erano al 100%, Attenzione però che per il mondiale 2025 quando lo spagnolo andrà in Ducati a fianco di Bagnaia potrebbe essere una cartina importante da giocare per il mondiale 2025, nel presente però alla fine recitiamo di un podio tutto Ducati ancora una volta con la vittoria di Marquez, seconda consecutiva appunto dopo Aragon e appunto davanti alle due Ducati ufficiali con Bagnaia in seconda posizione che porta a casa 20 punti preziosissimi e terzo Enea Bastenini che completa comunque una buonissima gara per il team che io tifo, quindi il Ducati Team Lenovo ufficiale, certo vedere Bastenini in Ducati che appunto sta compiendo le sue ultime gare con la rossa un pochino mi dispiace, il best di Rimini è uno dei miei piloti preferiti, l'anno prossimo andrà in KTM ma anche oggi ha fatto una gara solida per comunque in generale un campionato del mondo che vede, fondamentalmente escluso Martin, i piloti che sono nelle prime posizioni in questo campionato del mondo. In questo momento la classifica resta in questo modo, con un Martin disperso e quindicesimo arriviamo a 312 punti, Bagnaia è secondo in classifica a 305, a 259 c'è Marc Marquez che appunto colleziona la seconda vittoria consecutiva e quindi suona ancora una volta la marcia reale. Il mondiale di fatto è totalmente riaperto con appunto un Martin che finisce quindicesimo, ma perché è finito quindicesimo Orge Martin? Scelta sbagliata totalmente della strategia, effettivamente in paio di giri ha piovuto, la pista non era nelle migliori condizioni e Martin per non saperne leggere e scrivere rientra con gli altri che proseguono. La pista è vero che comunque aveva rallentato, ma lo aveva fatto con dei tempi non da switch completo della moto, tant'è vero che i giri più veloci attestavano un ritardo rispetto al passo ottimale di un paio di secondi. È vero che comunque non si sapeva effettivamente quanto sarebbe durata la pioggia, sfortuna voluto per Martin che la stessa venisse a diminuire nel giro di due passaggi, Martin si ritrova con le gomme Rain su pista asciutta e lui e gli altri piloti che hanno cambiato, vedi le due apriglia, vedi per esempio Alex Rins sono finiti dispersi, certo Martin ha provato a fare un azzardo che non ha pagato e da un vantaggio considerevole che aveva evidentemente accumulato dopo Aragon si ritrova soltanto con sette punti di distacco da Francesco Bagnaia che comunque fa una gara solida, ricordiamo però che Bagnaia non era nelle migliori condizioni, sappiamo tutti come è andato a finire il contatto con Alex Marquez con un incidente che ha fatto fuori entrambi con peraltro delle discrete conseguenze dal punto di vista fisico per Bagnaia che non era proprio al 100% della condizione, quindi un secondo posto in queste condizioni francamente è oro che cola, per Martini invece si salva per il fatto che ha vinto la gara sprint del sabato, dominando e rullando evidentemente chiunque gli si parasse davanti, cosa che non poteva fare invece in queste condizioni. Per il resto abbiamo appunto come dicevamo prima i primi quattro della classifica mondiale, tolto appunto Martin sono appunto i primi della gara perché Bastionini appunto fa terzo e si conferma comunque in rush, parliamo di tre podi nelle ultime quattro gare e mai peggio di quinto se consideriamo il rush più ampio, le altre posizioni andiamo veramente a verificare con una quarta posizione solida per quanto riguarda la gara lunga di Brad Binder con una KTM che va detto si conferma sempre e comunque la seconda forza di questo campionato mondiale MotoGP con il sudafricano in questo momento più in palla rispetto a chiunque altro, quinto è evidentemente Marco Bezzecchi con la Ducati del team Pertabine Enduro VR46, al netto che ancora una volta specifichiamo che la Ducati piazza praticamente tutte le moto nelle prime dieci posizioni, qui manca Morbidelli purtroppo perché è caduto nelle prime fasi di gara prima che arrivasse la pioggia e quindi parliamo di una statistica un pochino mozzata in questo caso, ma appunto è evidente come la Ducati sia senza se e senza ma di fatto la regina incontrastata delle prime dieci posizioni, quasi fosse un monomarca, non che questa cosa mi dispiace da Ducatista, però comunque sarebbe bello vedere anche più competizione con altri marchi. Sesto è Alex Marquez appunto con l'altra Ducati del team Grisini, segno che comunque anche l'altro pilota del team di Fausto Grisini sta comunque competendo bene in questa situazione. Settimo per quanto riguarda la gara di Misano è una delle poche eccezioni al monopolio Ducati KTM, soprattutto Ducati, ed è Fabio Quartararo che dal nulla con condizioni non propriamente idillia che riesce evidentemente a portare una buonissima settima posizione per una Yamaha, che è sempre più una Ducati Cancello, ma che si spera possa crescere negli anni a venire soprattutto con l'acquisizione del team Pramac come cliente. In ottava posizione per quanto riguarda la gara di Misano abbiamo Jack Miller con appunto la seconda KTM ufficiale, segno che comunque appunto detto prima è un monopolio Ducati KTM, c'era anche Pedro Acosta ma appunto è caduto e ha sbagliato anche lui, strategia evidentemente azzardando un qualcosa che non era necessario, nono invece è Fabio Di Gian Antonio a completare appunto il tripudio delle Ducati che sono tutte andate al traguardo tranne appunto Morbidelli, ma appunto abbiamo fatto il conto, sono sette Ducati nelle prime dieci posizioni. Quella che completa la top ten però è una KTM ed è una KTM importante perché è quella di Polizio e Spargarò che si è ufficialmente ritirato dal moto mondiale come pilota regolare, ha fatto delle wild card ed è insieme a Daniel Pedrosa, uno dei collaudatori di questa casa austriaca che sta comunque sempre più crescendo e attenzione anche alla casa austriaca secondo me in ottica 2025, terza gara della stagione per Polizio e Spargarò, seconda consecutiva appunti dopo Silverstone e quindi top ten per il pilota che appunto adesso fa il collaudatore. Per un mondiale che dicevamo prima è totalmente riaperto, si è riaperto però per una grossa ingenuità di Morgan Martin appunto perché era inutile in quel momento, certo col senno del poi è facilissimo andare a cambiare la moto con condizioni che non erano totalmente da bagnato e tutti gli altri piloti hanno evidentemente azzardato una strategia sbagliata a quelli che lo hanno fatto e sono stati soltanto in sei sui piloti totali presenti in griglia. Certo capisco l'azzardo se lo fa un pilota che conta il giusto come non me ne voglia Nakagami, Bradel o Zarco che sono after the music con le Honda clienti ma che lo faccia il leader del mondiale quando tutti gli altri piloti di testa in cui ti giochi evidentemente gara e titolo del mondo non lo fanno evidentemente fa riflettere, a posteriori sarebbe stato meglio continuare con gli altri e perdere piuttosto un po' di ritmo per provare la rimonta con le gomme da asciutto comunque per Martin ci sarà tempo in modo di rifarsi tra due settimane sempre a Misano nel secondo round del Gran Premio di San Marino della Via di Rimini che però va detto in questo caso va a denominazione diversa parleremo del Gran Premio dell'Emilia-Romagna dal momento che sostituiremo il Gran Premio del Kazakhstan che appunto ancora una volta va a esaurirsi e non ci sarà esattamente come l'anno scorso. Passiamo alle altre categorie, una Moto2 che appunto ha un mondiale ancora più combattuto che rispetto alla MotoGP qui abbiamo una grande vittoria che è quella di Ayo Gura che si prende tappa e maglia, Ayo Gura riesce ad averla meglio dei suoi diretti avversari e approfittando della debacle di Sergio Garcia che paga una qualificazione orrenda riesce ad arrivare in testa al mondiale appunto in questo momento e parliamo di 165 punti per il giapponese contro i 166 di Sergio Garcia suona per Ayo Gura il Team Igaio, l'innazionale giapponese, terza vittoria in stagione per il pilota del team MT Helmets che corre su Bosco Sturo peraltro ricordiamo che l'anno prossimo il giapponese comunque vada a finire questo mondiale Moto2 passerà in MotoGP con il team Aprilia Trackhouse Racing in seconda posizione abbiamo Aaron Kanet sulla Kalex del team Fantic quindi grande prestazione e gioia per il team di casa Fantic Racing in terza posizione invece abbiamo Tony Arbolino, il pilota italiano che è al secondo podio consecutivo dopo Aragon terza posizione in questo caso da Aragon Arbolino fu secondo per quello che è il secondo dei tre piloti italiani presenti in questa categoria, una categoria che è povera dei nostri piloti portacolori ma così un po' come lo è la Moto3 il migliore in classifica generale è Celestino Vietti che partiva comunque davanti, stava facendo una grandissima gara ha provato a rimontare per il podio ma alla fine a due giri della fine si stende e alla fine purtroppo prende zero punti anche Dennis Foggia ventiduesimo al traguardo una prestazione ancora una volta in colore passiamo alla Moto3 dove anche qui gli italiani va detto non brinnano evidentemente per risultati, abbiamo avuto un podio nella scorsa stagione per Luca Lunetta uno dei pochi podi della stagione per quanto riguarda l'Italia, anzi in realtà è stato l'unico per una categoria che appunto parla spagnolo ma perché il leader è colombiano Davide Alonso che partiva dalla proposition ma fa soltanto settimo, in ogni caso è un mondiale qui invece molto più indirezzato, parliamo della gara che vede una vittoria molto importante del rookie Angel Piqueiras, pilota spagnolo che ha subito anche due giri lunghi di penalità per il Responsible Riding riesce comunque a rimontare e a battere i suoi diretti avversari che sono nello specifico Daniello Olgado, pilota spagnolo del team Red Bull KTM Tech 3 e Ivan Ortolà, pilota del team MT Helmets che sta appunto dominando anche il campionato Moto2 con due piloti nelle prime due posizioni ennesima tripletta spagnola per questa categoria Moto3 che appunto per i nostri colori italiani darà pochissime soddisfazioni, c'è comunque da vedere un grande talento che è Davide Alonso l'anno prossimo andrà verosimilmente in Moto2 e sarà un pilota secondo me di cui sentiremo tanto tanto parlare per appunto una Moto3 che riprenderà le ostilità anche qui a Misano tra due settimane. Chi invece chiude le ostilità è la MotoE, un campionato che ha segnato il titolo del mondo e qui anche una volta rimaniamo in Spagna perché Hector Garzò riesce a vincere il titolo mondiale nella gara 1 del sabato mattina con un round di anticipo il pilota spagnolo che ha avuto un grande passato o meglio un passato discreto in Moto2 ed è un veterano della MotoE riesce finalmente ad averla meglio sui suoi diretti avversari cede il trono a Mattia Casadei che è stato il campione regnante fino appunto a Misano Casadei che comunque si sta nelle prime tre posizioni in questa classifica mondiale, Garzò è il secondo spagnolo a raggiungere il titolo del mondo in questa categoria MotoE che per la verità l'hanno vinto soltanto spagnoli e italiani l'ultimo spagnolo fu il bicampione Giordi Torres Garzò comunque riesce a ottenere una quarta e una settima posizione che bastano e avanzano ad avere un totale di 246 punti e dunque Garzò è il campione del mondo della MotoE del 2024 le gare le vanno a vincere appunto Mattia Casadei per il quale suona il nostro rino nazionale il canto degli italiani dunque comunque un buon congedo da campione del mondo per Casadei con un primo e un secondo posto in seconda posizione in gara 1 abbiamo Alessandro Zaccone per una doppietta italiana al netto che questi risultati sono abbastanza come dire frequenti siccome metà della griglia è italiana e adesso si divide tra Gran Bretagna Spagna e Brasile e Germania in terza posizione invece abbiamo Eric Granado pilota che sarebbe un grande esperto di questa categoria ma che non ha mai vinto un titolo del mondo ma che questa ragione ha fatto veramente tanta fatica Granado comunque bissa il podio di gara 1 anche in gara 2 secondo è Mattia Casadei e vince invece Oscar Gutierrez che fino al round di Austria era in lizza per il mondiale poi purtroppo la caduta in gara 2 lo depenna appunto dalla lista dei possibili contender alla fine arriva la vittoria e anche per lui suona la marcia reale 208 punti in classifica per Gutierrez apro un paio di parentesi per piloti che invece ho seguito con grande attenzione in questo campionato mondiale Maria Herrera finisce sedicesima in classifica generale con 43 punti totali davanti al dragone Chas Davis storico pilota della Ducati Superbike che ha vinto tantissimo in quanto appunto pilota Ducati della Superbike competitiva ai tempi di Jonathan Ray dopo Anga team manager che è tuttora del team Aruba Ducati si è riciclato come pilota a Moto E non ha fatto benissimo comunque Chas Davis non arriva ultimo in questa classifica in un appunto mondiale che ha visto 10 italiani su 18 piloti in griglia Moto E che invece ha concluso le ostilità le altre categorie invece entrano avanti fino a novembre a Valencia e a cominciare appunto dal round di Misano 2 che appunto sarà nello stesso weekend dove appunto io sarò presente a Cremona Superbike quindi parleremo del 21 e 22 settembre fatemi sapere cosa ne pensate ovviamente di questo mondiale a vostro GP se è totalmente riaperto come vedete Martin Bagnaia e se Marquez possa essere di fatto un terzo incomodo per questo titolo del mondo un arbitro rispetto magari a due piloti il saluto da parte di Matthew Thorgard ci vediamo a un prossimo video a un prossimo video a un prossimo video